Buongiorno cari amici dal vostro Mr. Sunny Bus. Oggi vi presento un nuovo pick up per contrabbasso, un pick up italiano, un piezo, realizzato da un ingegnere elettronico contrabassista che si chiama Pino Castagnaro. Il suo pick up si monta sotto al ponte, dal lato del Mi, ed è un pick up completamente realizzato a mano, artigianale. Abbiamo la piastrina di rame che contiene il pick up che si va a fissare sotto al ponte, dal lato del Mi, il cavo e l'attacco. Per il jack un attacco di qualità. Quindi questo è il double pick up, pick up artigianale prodotto in Italia da Pino Castagnaro. ed eccolo installato sul mio contrabbasso. Come vedete l'ho messo sotto al piede del Mi e qui ho messo il suo attacco. Come vedete è un attacco jack di qualità di quelli con il blocco del cavo. Ora nel proseguo di questo video sentirete il suono puro e semplice di questo pick up collegato direttamente al mio gallio in Kruger e da qui esco dall'uscita centrale, cioè l'uscita dry, l'uscita flat senza nessun intervento dell'equalizzatore ed entro direttamente in un canale di questo registratore digitale. E quindi potrete sentire il suono puro del pick up senza nessun effetto, nessuna equalizzazione, nessuna compressione. Vi consiglio a proposito l'ascolto o con una cuffia o con un ottimo impianto. Per chi fosse interessato nella descrizione di questo video vi lascio l'email di Pino Castagnaro per contattarlo direttamente e chiedere informazioni a lui. Quindi buon ascolto, sentirete prima una parte pizzicata e poi una parte con l'arco. E dal vostro mister Sanibas un grazie e alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.